But one thing I know, I know, I never love his own Alfredo Lazzarotti, una partita non come ve l'aspettavate, l'avete presa un po' troppo alla leggera questa sera? No, troppo alla leggera no, eravamo noi forse un po' sotto tono a livello mentale e fisico Sotto tono no, perché loro sono una bella squadra, stanno facendo un bel campionato del 18 Noi, sotto tono a livello mentale, ti ripeto Pesata anche un po' l'assenza di Gianni Rugolo? Logicamente sì, la sua assenza conta e come, non lo scopro di certo io È un giocatore fuori categoria, ma non solo di questa categoria, ma anche la Serie B secondo me Adesso il girone d'orologio sta per terminare, si partirà poi con i play-off La testa già ai play-off oppure ogni partita ha una sua storia? No, abbiamo altro a cui pensare, abbiamo problemi di palazzetto, di logistica, di tutto Quindi stiamo pensando settimana per settimana, ora c'è Villa e poi andando vedendo Grazie mille Grazie a te